già c'è tardi, però questo è il pizzicotto adesso mettiamo il piatto ha mesclato, ha quitato con questo tipo di... voi ti dico come so, eh? te li vanno a tirare qua ci vuoi il peccano in cima? ciao ciao no, c'è della noccia, signor? che chiede che chiede c'è un paio